Nel secondo mistero orgoglioso contempliamo l'accensione di nostro Signore al Geno, preghiamo per tutti i nostri anziani, per chi sono, per chi ha bisogno di preghiera. Nel secondo mistero orgoglioso contempliamo l'accensione di nostro Signore, preghiamo per tutti i nostri anziani, per chi ha bisogno di preghiera. Nel secondo mistero orgoglioso contempliamo l'accensione di nostro Signore, preghiamo per tutti i nostri anziani, per chi ha bisogno di preghiera. Preggiamo per tutti i nostri anziani, per chi ha bisogno di preghiera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.